Spazio alle emozioni che la fotografia sa dare nei locali di BPL Arte a Lodi. In via Poleghi Lombardo hanno trovato posto 105 scatti, come si intitola la mostra, realizzati e riprodotti da Alberto Martineghi. Lodigiano, con una sconfinata passione per la fotografia diventata sua professione, Martineghi propone sino a metà marzo immagini che, come ha detto il fotografo Tony Hasler durante la presentazione della mostra, riproducono la personalità stessa di chi le ha scattate. Rigorosamente in bianco e nero, con qualche concessione al colore per cogliere sfumature nuove oppure per dare risalto a sensazioni altrimenti non percepibili, le fotografie di Martineghi si muovono soprattutto tra paesaggi marini e panorami imbiancati della pianura padana. Non mancano gli scatti dedicati all'uomo, ma sembrano quasi scomparire tra le riproduzioni della natura e dell'ambiente che lo circonda. Un angolo suggestivo è dedicato alla piazza principale della sua città, suggerita ai visitatori in spicchi tra loro accostati. Resa possibile grazie all'apporto di tanti amici che Martineghi ha ringraziato pubblicamente, alla mostra è abbinato un momento di approfondimento tematico sul significato della comunicazione nella fotografia. In programma sabato 23 febbraio ne parlerà Tony Hasler.